Sequestro di persone e tortura due misure cautelari. Domani i due quindicenni saranno interrogati dal GIP. Polizia postale l'attività di un anno. Riforma del reddito di cittadinanza. Dichiarare lo stato di calamità climatica. Ben trovati. Sequestro di persona e tortura i carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in istituto penitenziario minorile. I destinatari del provvedimento sono due quindicenni in servizio. L'adolescenza è da sempre un momento delicato per la crescita, principalmente in un periodo storico come quello attuale. Sempre con maggiore frequenza la cronaca riporta la ribalta storia di violenza fra coetane e adolescenti. L'ultimo episodio si è verificato a Caltanissetta, dove i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare che dispone il collocamento in un istituto penitenziario minorile nei confronti di due ragazzi di 15 anni gravamente indiziati a vario titolo di tortura, sequestro di persona, minaccia, lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, scaturisce da un'approfondita attività investigativa coordinata dal Procuratore della Repubblica per i minorenni di Caltanissetta, Rocco Cosentino, e condotta dalla sezione operativa della locale Compagnia dei Carabinieri, all'esito della quale sono emersi gravi indizi a carico dei due minorenni, i quali lo scorso settembre avrebbero attirato con l'inganno all'interno di un garage di proprietà di uno dei due, un ragazzo di 13 anni bloccandolo su una sedia e legandogli caviglie, polsi e bocca con del nastro da imballaggio. Nella circostanza il giovane sarebbe stato colpito con schiaffi su tutto il corpo, avrebbe subito sputi sul volto e intimidazioni con attrezzi da lavoro e con un coltello. Inoltre gli sarebbe stato versato addosso acqua entrisa di olio per motori con la minaccia di dargli fuoco. Dopo circa un'ora e mezza il tredicenne sarebbe stato liberato con l'ulteriore minaccia di morte qualora avesse rivelato a qualcuno quanto accaduto. Secondo i militari dell'arma il movente di talazione sarebbe dovuto all'intenzione dei due minorenni di vendicarsi dal tredicenne che avrebbe condiviso con altre persone il proprio disappunto per alcune aggressioni che gli stessi giovani avrebbero fatto nei confronti di alcuni suoi amici. Domani i due quindicenni saranno interrogati dal giudice per le indagini preliminari. Saranno interrogati domani dal GIP i due quindicenni accusati a vario titolo di tortura, sequestro di persona, minacce, lesioni aggravate, porto di oggetti e atti a offendere con l'aggravante dell'avere agito per futili motivi. La loro versione del racconto sarà posta al vaglio dell'autorità giudiziaria e degli organi inquirenti che per chiarire ogni aspetto di quanto sarebbe accaduto quel giorno dello scorso settembre, ascolteranno attentamente. Per loro il Tribunale per i minorenni nisseno ha disposto il carcere, visto l'esito delle complesse attività investigative coordinate dal Procuratore della Repubblica per i minorenni Rocco Cosentino e condotta dalla Compagnia dei Carabinieri di Caltanissetta. Tutto sarebbe partito dalla vendetta, la vittima avrebbe esternato il proprio disappunto, parlando con altre persone di altre aggressioni che i quindicenni avrebbero compiuto nei confronti di alcuni suoi amici. La loro versione del racconto sarà ascoltata domani per chiarire ogni aspetto di quanto sarebbe accaduto in quel garage. La vittima di soli 13 anni accompagnato dalla madre ha denunciato quanto accaduto gli cinque mesi fa, un'ora e mezza da incubo quella vissuta da ragazzo, da fare impallidire le sceneggiature delle serie tv più gettonate dai giovani che richiamano le dinamiche dei videogiochi più violenti che tanto li affascinano. Eppure la scena si è svolta a Caltanissetta dove due quindicenni avrebbero dato appuntamento alla vittima con la scusa di dovergli mostrare una sigaretta elettronica ed una volta attirato con l'inganno all'interno di un garage di proprietà di uno dei due lo avrebbero dapprima fatto sedere su una sedia, poi bloccato con il nastro da imballaggio con cui hanno avvolto caviglie e polsi e poi lo hanno imbavagliato. Da quel momento per cosse, schiaffi, pugni sulla nuca, sputi in faccia, calci alle caviglie, alle costole e su tutto il corpo, poi le minacce con attrezzi da lavoro tra cui martelli e un coltello puntati all'altezza del viso e degli occhi ma non solo, anche acqua e olio per motori versati addosso avvicinando subito dopo un accendino alla nuca a spezzare la spirale di violenza e il rumore della presenza di alcune persone fuori dal garage. A quel punto sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti avrebbero dapprima colpito alle costole il ragazzo o poi lo avrebbero minacciato di morte se avesse parlato con qualcuno. Da quel momento il giovane non è più riuscito ad uscire da solo temendo di incrociare per strada i due quindicenni. Un racconto che avrebbe trovato riscontro durante le indagini svolte meticolosamente dai carabinieri di Caltanissetta da cui è emersa una condotta di vita dei due giovani indagati improntata al mancato rispetto del prossimo, alla risoluzione di controversie giovanili, attraverso sistemi violenti, motivo per cui la procura ha richiesto l'applicazione della misura cautelare personale e la custodia cautelare. Un altro fatto che a distanza di poche settimane dal pestaggio di un quindicenne davanti al proprio istituto scolastico fa emergere il lato oscuro che poco si conosce del mondo giovanile di Caltanissetta che affiora attraverso episodi che fanno da cartina tornasole del disagio sommerso presente in città. Il resoconto dell'attività della Polizia Postale, delle Comunicazioni e dei Centri Operativi Sicurezza Cibernetica nel 2022. Il servizio. Diversi gli ambiti di azione della Polizia Postale, delle Comunicazioni e dei Centri Operativi Sicurezza Cibernetica e mentre il nuovo anno sta per iniziare si tirano le somme di quanto è stato fatto nel 2022 ed in particolare il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online nel 2022 ha confermato il suo ruolo di punto di riferimento e di coordinamento nazionale dei centri operativi Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale nella lotta alla pedofilia e pornografia minorile online, si legge nel comunicato. Registrato una lieve diminuzione dei casi trattati e riscontrata anche riferimento al numero delle segnalazioni provenienti da organismi internazionali attivi nella protezione dei minori in rete. Sono stati trattati complessivamente 4.542 casi, 1.463 le persone indagate e di cui 149 tratti in arresto per reati connessi alla materia degli abusi tecnomediati in danno di minori. Visionati 25.696 siti, di cui 2.622 inseriti in blackliste oscurati in quanto presentavano contenuti pedopornografici. 424 i casi trattati per adescamento online, nella fascia più coinvolta è quella dai 10 ai 13 anni, 229 infatti rispetto al totale, ma preoccupa il lento incremento dei casi relativi a bambini adescati di età inferiore ai 9 anni. Trend che è diventato più consistente a partire dalla pandemia, si precisa ancora. Leggera flessione anche dei casi di cyberbullismo, trattati infatti 323 casi quest'anno rispetto ai 458 del 2021, ma lieve aumento dei minori denunciati per cyberbullismo, 128 nel 2022 e 117 l'anno precedente. Sextotion registrati 130 casi, la maggior parte dei quali nella fascia 14-17 anni, più spesso in danno di vittime maschili. E ancora si fa riferimento al Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture. Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Sicilia Occidentale nel 2022 ha monitorato 2.431 spazi virtuali, rilevando contenuti illeciti in 237 di essi. Prendendo in considerazione anche le denunce dei cittadini, sono stati aperti 562 nuovi procedimenti penali, tra cui quasi la metà nel territorio palermitano. E ancora truffe online. 3.541 le persone deferite all'autorità giudiziaria, in particolare nel settore dell'e-commerce e marketplace. Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Sicilia Occidentale ha trattato in totale 899 casi, tra truffe online e frode informatiche, per un importo complessivo di 2.227.646 euro, di somme oggetto di frode. Registrato un aumento del fenomeno del trading online, la sezione operativa della Polizia Postale nel corso del 2022 ha attivato 260 richieste di cooperazione internazionale attraverso il canale Europol, 244 i casi di revenge porn trattati, di cui 34 in danno di minori, 71 persone denunciate. Per le truffe romantiche, 442 i casi trattati, di cui 4 in danno di minori e 103 persone denunciate. 15 casi di codice rosso. Attenzione rivolta anche al cyberterrorismo e al financial cybercrime. Un ruolo importante svolge il commissariato di Polizia di Stato Online, che permette ai cittadini di contattare, segnalare e chiedere aiuto anche da PC. Tra le segnalazioni ci sono anche quelle di utenti che si trovano in situazioni di pericolo o che minacciano gesti estremi, si legge ancora. Si fa riferimento all'attività di prevenzione con le iniziative rivolte agli studenti e a quella di formazione, innovazione e ricerca nel settore delle tecnologie ICT e di realizzazione del costituendo organismo, Computer Emergency Response Team, Ministro dell'Interno. Per quanto riguarda la sezione nissena, si registrano 316 denunce ricevute, la maggior parte per attacchi informatici, ben 105, seguiti da Frodo Informatica 57 e Trofei Commerce 54. 21 le persone denunciate. Riforma del reddito di cittadinanza, inserimento dei beneficiari per un periodo di sei mesi in un corso di formazione o di riqualificazione professionale. Riforma del reddito di cittadinanza, si prevede così l'inserimento dei beneficiari per un periodo di sei mesi in un corso di formazione o di riqualificazione professionale già dal 1 gennaio scorso e fino al 31 dicembre. La misura del reddito è riconosciuta nel limite di un massimo di sette mensilità. Fanno eccezione i nuclei familiari con componenti affetti da disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età. I beneficiari, in caso di mancata frequenza del percorso formativo assegnato dal programma, vedrebbero decadere il diritto all'acquisizione del reddito di cittadinanza. Saranno così le regioni a trasmettere all'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro gli elenchi dei percettori di reddito di cittadinanza che non rispettino l'obbligo di frequenza. Se a percepire reddito sono persone tra i 18 e i 29 anni che non hanno terminato il ciclo di istruzione obbligatoria, la legge inoltre prevede che l'erogazione del reddito sia subordinata anche all'iscrizione alla frequenza di percorsi di istruzione per adulti di primo livello o funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali hanno stipulato un protocollo con cui sono state individuate azioni mirate a facilitare le iscrizioni a percorsi di istruzione erogati dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti e per attuare le disposizioni già previste da legge. Il beneficio quindi del reddito decade anche nel caso in cui si rifiuti la prima offerta di lavoro. Inoltre la quota dell'assegno destinata all'affitto sarà pagata direttamente ai proprietari. Infine l'agevolazione per l'assunzione dei percettori di reddito di cittadinanza per le aziende che prevede l'esonero totale fino a 8.000 euro per tutte quelle assunzioni effettuate proprio dalle imprese a tempo indeterminato e le eventuali trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato che saranno effettuate tra il 1 gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023. Dichiarazione dello stato di calamità climatica presentata la mozione all'assemblea regionale siciliana. Dichiarare lo stato di calamità climatica per individuare strumenti e risorse utili per sostenere le aziende agricole dell'indotto messi ormai in cinocchio da un clima imbazzito che in inverno vede punte di ben 22 gradi. È quando chiede Riccardo Gennuso, deputato regionale di Forza Italia, che ha presentato oggi una mozione all'assemblea regionale siciliana con i colleghi Gaspare Vitrano e Ignazio Abate, nella quale ricorda gli effetti nefasti del cambiamento climatico sull'industria agroalimentare siciliana, in particolare nel territorio siracusano, noto per eccellenze come quella del pomodorino di Pacchino e per la qualità dell'ortofrutta. I magazzini delle aziende, afferma Gennuso, sono pieni di prodotti invenduti, che a causa delle alte temperature sono maturati troppo velocemente. Alla crisi della vendita si aggiunge quella determinata del caro energia, ulteriormente aggravata dalla concorrenza sleale di altri mercati, nei quali il costo della manodopera sottopagata incide per appena il 10% dei costi azientali, mentre in Sicilia sfiora il 60%. Per il parlamentare regionale occorre individuare forme di salvaguardia delle aziende, che ridiano slanci all'intera filiera siciliana e nazionale, per il rispetto del prodotto made in Italy, che viene tanto proclamato, ma non adeguatamente tutelato. Beni culturali, due carrozzine al Parco archeologico di Gela per i visitatori con disabilità. Il superamento delle barriere architettoniche e il miglioramento delle strutture pubbliche e private per consentire la piena accessibilità a persone con disabilità è un obiettivo non più differibile. In questa direzione va letta l'iniziativa del centro ortopedico Aliotta di Gela, che ha donato due moderne carrozzine ad autospinta, che consentiranno ai visitatori con disabilità motorie di visitare il Parco archeologico della città nissena. La bellezza, dice l'assessore regionale dei beni culturali dell'identità siciliana Elvira Amata, rappresenta il miglior antidoto contro la sofferenza e uno strumento di integrazione e partecipazione. È importante che il nostro patrimonio artistico e culturale sia accogliente e che tutti possano fruirne. La regione è impegnata sul fronte dell'ammodernamento e dell'adeguamento progressivo delle proprie strutture, ma il ruolo dei private a fianco dell'ente pubblico è molto importante, dice, perché contribuisce a rendere più funzionali le strutture e rafforza il sentimento di collaborazione e di rispetto per i beni pubblici che è alla base di un sano rapporto con le comunità territoriali. Pensiero condiviso da Alessandro Guarnera, amministratore delegato del Centro Ortopedico Aliotta. Lavoriamo per alleviare la sofferenza del corpo e contribuiamo affinché venga alleggerita anche quella dell'anima. Il Centro Aliotta in passato è stato promotore di analoghe iniziative anche in altri luoghi della Sicilia, con l'obiettivo di favorire la piena accessibilità dei luoghi della cultura ai soggetti con disabilità. Assegno Unico Universale e IMSS pronti a riconoscere le maggiorazioni. Gli aumenti che spettano saranno erogati da febbraio 2023. Da febbraio 2023 saranno erogate le maggiorazioni dell'Assegno Unico Universale. A dover avere le maggiorazioni saranno le famiglie con figli di età inferiore a un anno e nuclei familiari numerosi con tre o più figli a carico, con la presenza di almeno un figlio in età compresa tra gli 1 e 3 anni. In particolare sale a 150 euro mensili a nucleo, quindi un aumento del 50% della maggiorazione forfettaria per i nuclei con almeno 4 figli. Previsto l'aumento del 50% dell'assegno per i nuclei familiari numerosi con tre o più figli a carico, limitatamente ai figli di un'età compresa tra 1 e 3 anni, per cui l'importo spettante per ogni figlio aumenta del 50% in base ai livelli di ISEE fino a 40.000 euro. L'aumento del 50% dell'assegno va applicato agli importi secondo le fasce ISEE di riferimento per i nuclei familiari con figli di età inferiore a un anno. La manovra vuole sostenere anche le famiglie con figli disabili, corrispondendo agli aumenti previsti in base a quanto previsto lo scorso anno. Vincenzo Caridi, direttore dell'Inps, spiega che l'Istituto è già pronto a riconoscere le maggiorazioni e la rivalutazione degli assegni. Si dovrà attendere un ulteriore circolare Inps che terrà conto anche della rivalutazione dei costi di vita entro la fine di gennaio. Parliamo di Caltanissetta, Piazza del Natale. Venerdì arriverà la Befana, sabato alle 18, Dado e Carlo Amleto Giammusso sul palco di Corso Umberto. Si prospetta un fine settimana all'insegna della musica e del divertimento per la chiusura della Piazza del Natale. Si partirà il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, con l'arrivo della Befana in Piazza Garibaldi e poi sabato 7 gennaio a partire dalle ore 18 con il divertimento dei due comici di Zelig, Dado e Carlo Amleto Giammusso. Dado, pseudonimo di Gabriele Pellegrini, è un cabarettista, comico e cantante italiano da anni ormai sulla scena nazionale, mentre Carlo Amleto Giammusso gioca in casa e uno dei nuovi comici di Zelig che porta in scena i suoi sketch con TG Zero. Tantissime risate che saranno accompagnate dalla musica dell'artista siciliano Alessio Bondi. Abbiamo ascoltato il vice sindaco, grazie a Giammusso e l'assessore Fabio Caracausi, che hanno tratto un bilancio su questo mese della Piazza del Natale. I nostri obiettivi sono stati raggiungere, portare le famiglie e i bambini in piazza e tutti i fine settimana la piazza è stata animata da bambini, passeggini e mamme e genitori, ma anche nonni. Abbiamo avuto un mese intero di animazione. Giorno 6 i bimbi arriva alla Befana, ma giorno 7 ci sarà anche un bel concerto alle 18 in piazza, perché proprio alle 18 per animare sempre di più il nostro centro storico, fare lavorare tutte le attività commerciali, i bar, e per dire sempre che siamo sempre più orgogliosi della nostra città. Quindi il bilancio è assolutamente positivo, grazie a bimbi e grazie a tutte le famiglie che hanno passeggiato per le vie del nostro centro storico. Invitiamo chiaramente tutti quanti a partecipare, sarà sicuramente una festa che attira naturalmente non solo ai bambini ma anche ai grandi e quindi insomma un'ennesima attività per promuovere quelli che sono gli eventi poi natalizi. Una cospicua donazione di panettoni è stata effettuata alla Croce Rossa Italiana di Caltanissetta da parte di una ditta nissena e saranno distribuiti a varie associazioni caritatevoli del territorio, parrocchie a cittadini vulnerabili, quotidianamente assistiti. Così si legge nella nota diffusa da Croce Rossa che specifica che la donazione di quest'anno permetterà di poter effettuare una distribuzione più capillare. Parliamo adesso dei carusi di Pirrera, dalla storia al racconto, un seminario di studi giovedì a Caltanissetta. Si terrà giovedì 5 gennaio alle ore 17.30 presso l'atrio della Fondazione Sicana l'ultimo appuntamento di Alchimia con il seminario di studi I Carusi di Pirrera, dalla storia al racconto. Nonostante lo sfruttamento minorile fosse una piaga comune in tutta Italia, in Sicilia assunse toni oggettivamente drammatici. L'argomento sarà trattato a partire da due libri. Il saggio storico La condizione dei carusi nella Sicilia dello zolfo di Fabrizio Lamanna e il romanzo Testimoni Sepolti di Michele Rondelli, ispirato alla tragedia di Cozzo Disi avvenuta a Casteltermini il 4 luglio del 1916 e costata la vita a 89 operai. Gli autori dialogheranno con Angelo Campanella, insegnante, ricercatore, scrittore e studioso di Leonardo Sciascia. Speriamo di avere contribuito a offrire ancora una volta con l'associazione Alchimia un'offerta culturale di qualità e chiudiamo ritornando a Caltanissetta perché l'ultimo incontro era stato a Delia parlando di miniera e in particolare affrontando l'argomento delle condizioni di vita dei carusi ma lo facciamo in una maniera un po' particolare nel senso che presenteremo due testi che non sono mai stati presentati a Caltanissetta con due generi molto diversi. Uno è un testo documentario che ricostruisce a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento le condizioni del lavoro dei carusi ed è opera di Fabrizio Lamanna che è uno storico moderno che lavora a Catania e che ha compulsato moltissimi documenti anche legislativi e il secondo è invece una ricostruzione memorialistica della vicenda di Vicenzino che è stato l'unico caruso sopravvissuto nel 1916 al crollo della miniera Cozzodisi Casteltermini. Il secondo libro invece è di Michele Rondelli che è un cultore locale di Casteltermini e che è riuscito a raccogliere questa preziosa testimonianza che ci parla proprio delle condizioni anche di sicurezza delle miniere del centro Sicilia. Gli artigiani orafi della Sicilia prenderanno parte al più grande salone europeo dedicato ai gioielli e ai metalli preziosi. Saranno 15 le imprese dell'isola a partecipare alla prossima edizione di Vicenza Oro dal 20 al 24 gennaio nell'ambito dell'esposizione collettiva finanziata dall'assessorato alle attività produttive della regione siciliana. Un intervento del Dipartimento regionale che copre il regime di aiuto dei minimis le spese relative ad affitto dell'area espositiva, allestimento e arredamento standard degli stand e iscrizione delle imprese selezionate nel catalogo della manifestazione. Le 15 realtà siciliane ammesse a fronte delle 17 istanze pervenute partiranno da Palermo, Marsala, Leonforte, Riesi, Scordia, Alcamo, Sciacca, Catania, Barcellona, Pozzo di Gotto, Giarre, Aci, Catena. Cambiamo argomento, parliamo del Decameron. Dieci novelle per dieci giorni, una trasposizione dall'italiano del 300. Ieri pomeriggio presso la sede della fondazione sicana di Via Crispi si è tenuta la presentazione del volume Decameron. Dieci novelle per dieci giorni di Giovanni Boccaccio, trasposizione dall'italiano del 300 a cura di Salvatore Palmeri. Oltre alla presentazione sono stati letti alcuni brani dell'opera da parte della professoressa Vitalia Mosca, vicepresidente della società nissena di storia e patria e da parte dell'attore Diego Giordano. L'evento è stato promosso dalla fondazione sicana e società nissena di storia e patria calta nissetta. Noi abbiamo sentito il dovere di promuovere questo libro del preside Giuseppe Palmeri perché lo riteniamo degno di essere offerto alla cittadinanza di Sena perché è un lavoro di eccezionale valore più che letterale in senso stretto, culturale in senso più lato ed educativo in senso proprio vero e proprio perché il preside Palmeri era un uomo di scuola e intendeva offrire l'opportunità a tutti di leggere un testo ostico per la maggior parte delle persone. Il Decameron è scritto in italiano ma pensando al latino, è più latino che italiano si può dire, tanto per semplificare per le persone che non hanno dimestichezza con questi lavori. E quindi abbiamo incoraggiato la famiglia a pubblicarlo questo libro, lui non riuscì a pubblicarlo ed è diventato ora oggetto di attenzione. Intendiamo anche promuovere attraverso la figura di Palmeri il ruolo che svolsero tanti uomini di scuola nel secondo dopoguerra perché si fecero carico della diffusione della cultura, dell'educazione non solo scolastica, nell'educazione culturale in senso lato. Questo è il senso della... Poi è una bella lettura, poter leggere di fila, è un librone, è una fatica grande che ha fatto, ma poter leggere il Decameron in un linguaggio scorrevole anche oggi è una cosa piacente. Il 2022 è stato un anno da record per i parti archeologici e i principali musei siciliani. Sono state oltre 3 milioni e 300 mila le visite registrate, quasi il doppio rispetto al milione e 700 mila del 2021. Una punta di diamante il Parco Naxos di Taormina che con il sito archeologico, il Teatro Greco e Isola Bella fa registrare 844.542 visitatori a fronte dei 352.484 dell'anno precedente con un più 139%. Segue il Parco della Valle dei Templi con 809.513 presenze, quasi l'82% in più rispetto ai 445.000 del 2021 e il 200% in più del Parco di Siracusa con 764.853 visitatori nel 2022 a fronte dei 254.713 ingressi del 2021. Numeri significativi. Anche per la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina visitata da 253.167 persone e per i parchi di Selinunte e Segesta con 252.500 presenze e 239.381 biglietti staccati. Parliamo di Caltanissetta città moncadiana, il Palazzo Ducale e il suo museo, percorsi di conoscenza e fruizioni, il servizio. Attribuire a Palazzo Moncade il ruolo di epicentro di un sistema geografico culturale regionale finalizzato alla valorizzazione di beni e monumenti siciliani posti sotto il comune denominatore feudale con lo scopo di supportare la rifondazione complessiva dell'immagine di Palazzo Moncada, attribuendogli il ruolo di attrattore di flussi culturali. Tesi ad attivare percorsi di valorizzazione e divulgazione del patrimonio complessivo della città e del territorio nisseno. Questo è l'obiettivo del progetto Caltanissetta città moncadiana e il Palazzo Ducale, il suo museo, percorsi di conoscenza e fruizioni, così come riportato nella determinazione pubblicata a fine dicembre all'albopretorio del comune nisseno e che fa riferimento all'impegno delle somme. Il progetto che rientra nell'area tematica della cultura era stato votato dai cittadini ottenendo 164 preferenze all'interno del bilancio partecipativo 2018 ed era stato presentato dalla Proloco e dall'associazione Alchimia. I lavori in realtà sono già iniziati, finalmente con la determina da parte dell'amministrazione comunale siamo pronti per mettere in pratica quello che già si è iniziato a studiare. Parliamo di un progetto che finalmente darà un senso alla storia di Moncada a Caltanissetta perché si sta proprio studiando la loro storia, la loro presenza qui nel territorio nisseno con lo studio soprattutto dei freggi e dei menzoloni di Palazzo Moncada che tra l'altro verranno musealizzati e digitalizzati, mi spiego meglio, musealizzati nel senso che verrà realizzata una stanza ad hoc sulla famiglia Moncada dove verranno posizionati questi menzoloni e verranno anche, verranno realizzati dei pannelli multimediali con la storia della famiglia. A questo la digitalizzazione perché verrà realizzato un portale, proprio un sito internet, oltre a delle pagine social di accompagnamento che servirà poi anche da rete con le altre città moncadiane della Sicilia. Quindi un progetto che in realtà inizia qui da Caltanissetta che anche questa volta sarà capovila di questa iniziativa sui Moncada che si aprirà però a tutta quanta la regione su tutte le città appunto moncadiane. È il momento di parlare di calcio. Nissa allenamento con Illicata al Tomaselli, giovedì pomeriggio. Domani, giovedì 5 gennaio alle ore 15 al Marco Tomaselli, Nissa e Illicata daranno vita ad un allenamento congiunto tra le due squadre, amiche e gemellate. Sarà un test in vista della ripresa del campionato di domenica prossima dove la squadra biancoscudata ospiterà al Tomaselli nella prima giornata del girone di ritorno il Casteldaccia nel campionato di eccellenza, mentre Illicata sarà ospite del Castrovillari nella prima giornata del girone di ritorno di Serie D. Nissa molto attiva anche in fase di mercato dove nei giorni scorsi ha rafforzato l'organico di mister Alessio Sferrazza con il difensore Pietro Benivegna e l'attaccante Giuliano Guadagnoli, che sostituiscono i due partenti argentini Hernández ed Ortiz. In più, nelle ultime ore è stato anche annunciato l'arrivo del centrocambista Amedeo Ottaviano, classe 2005 proveniente dalla Master Pro di San Cataldo, dove è stato protagonista nella prima parte della stagione nel campionato di prima categoria. Domenica al Tomaselli si prevede una grossa affluenza di spettatori, data anche della presenza delle scuole calcio di Caltanissetta, che hanno stretto un patto di sinergia con il club bianco scudato. E in tribuna si aspetta anche l'arrivo dell'imprenditore Luca Giovannone. Questa edizione del nostro telegiornale termina qui, vi lascio al Meteo e alle informazioni di pubblica utilità. Buon proseguimento! Amici di Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì, che nel complesso sarà buona in gran parte d'Italia. Rimaniamo protetti da un'area di alta pressione che si è posizionata sul Mediterraneo e sul nostro paese. Vi segnalo solo un po' di correnti umidi occidentali e parecchie umidità in pianura padana. Se controlliamo la nuvolosità attesa sul nostro paese, come vedete, non ci attendiamo grandi perturbazioni, però al nord, a specie in pianura padana, l'umidità resta alta e qualche nuvola di passaggio si fa vedere nell'Italia centrale, specie versante tirrenico. Anche come precipitazioni poco o nulla da segnalare, non sono attese grandi piogge dalle nostre parti, l'arco alpino vedrà sulle cime di confine magari qualche fiocco di neve, ma a quote alte. Quindi in definitiva ci attende un giovedì bello in gran parte del paese, qualche nuvola torna a interessare il medio-alto tirreno, in particolare il Levante Ligure, poi la pianura padana continuerà a fare conti con parecchie umidità, quindi nuvole basse, foschie, anche qualche banco di nebbia. Per il resto, ripeto, non mancheranno delle belle aperture e clima che resta davvero molto mite per il periodo. Per tutti i dettagli sulle vostre località, consultate l'app di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità. Farmacie di turno, Caltanissetta, servizio diurno, Marrocco, via Rosso di San Secondo. Servizio notturno, Pasqualino, via Xiboli, villaggio Santa Barbara.